Scompare Kim Jong-il e si moltiplicano gli interrogativi. Il passaggio di consegne dal caro leader al terzo genito Kim Jong-un getta la diplomazia internazionale nell'incertezza. Un rapporto del congresso americano metteva già in guardia lo scorso giugno da implicazioni importanti e rischi potenzialmente esplosivi per gli Stati Uniti e i loro alleati. Preoccupazione numero uno, l'arsenale nucleare di Pyongyang. Secondo alcuni analisti, un'arma la merce di lotte intestine che potrebbero scatenarsi in caso di mancato riconoscimento della legittimità di Kim Jong-un alla successione. Per quanto bandiera di un regime anacronistico e repressivo, il padre era considerato da molti un guardiano della stabilità, una pedina tolta la quale un castello rischia ora di franare disegnando nuovi equilibri internazionali.